C'è una foto o paesaggio particolare immortalato che ha segnato la sua carriera? Ma non una foto, diciamo alcuni momenti del paesaggio e penso innanzitutto al mare. Il mare per me è un momento di grande fascino, grande suggestione per il mio lavoro. Sono sempre affascinato perché pur avendo davanti, ho lavorato molto sul mare, pur avendo davanti la stessa dimensione, l'orizzonte, acqua e cielo, l'immagine si rinnova completamente a secondo delle stagioni, a secondo degli orari. Per me è una fonte di ispirazione e di lavoro straordinaria. E quali sono state le influenze artistiche che hanno segnato la sua carriera? Ma diciamo, inizialmente più che la fotografia sono stati alcuni pittori, ecco posso dirlo, i surrealisti innanzitutto. Infatti nel mio lavoro ancora oggi questa dimensione surreale accompagna tutte le mie fotografie. Magritte, ecco, se devo sceglierne uno, sceglierei Magritte. E qual è lo stato della fotografia oggi? Ma io lo trovo sempre interessante perché sicuramente oggi è aumentata moltissimo la partecipazione. Ci sono tantissimi giovani che si dedicano alla fotografia. Purtroppo non tutti hanno talento, non tutti riescono a produrre delle cose interessanti. Però è bella questa enorme partecipazione. Io spesso sono coinvolto in concorsi, in manifestazioni fotografiche. Non sempre il profilo dei partecipanti è alto. Però è come dire, c'è un tale interesse che fa ancora sperare meglio per il futuro. E che cosa si sente di dire alle nuove generazioni che si affacciano alla fotografia? Le nuove generazioni? Che si affacciano alla fotografia. Non lavorare pensando al successo. Bisogna lavorare per il piacere di fare le cose ed essere felice quando si riesce a realizzare un'immagine che è come la si pensava. Purtroppo molti giovani pensano e lavorano mirando al successo, mirando al consenso. Questa è importante, però è la cosa più importante per me. Quando io faccio il mio lavoro e riesco a realizzare le cose come le ho pensate, come le ho progettate. E questo per me vale più di ogni successo esterno. Grazie mille.